32 anni dopo i Los Angeles Dodgers tornano a vincere il titolo della MLB lo fanno ai danni dei Tampa Bay Rays in una serie molto interessante a tratti spettacolare di queste World Series 2020 che vedevano di fronte le due migliori squadre della Lega è finita questa stagione 2020 della MLB una stagione stranissima composta da 60 partite causa appunto la situazione che tutti noi conosciamo la MLB è riuscita a mettere insieme una stagione da 60 partite e playoff a 16 squadre e le emozioni non sono mancate in tutto questo Tampa Bay e Los Angeles hanno dato vita a una serie di 6 partite perché Los Angeles ha vinto 4 a 2 veramente emozionante e in questo video faremo una sorta di recap su quello che è successo in queste World Series per chiudere al meglio la stagione dei video dedicati al meraviglioso gioco del baseball l'MLB, il baseball americano in sostanza vedremo un po' tutte le partite che si sono svolte analizzeremo che cosa è andato bene per i Los Angeles Dodgers che cosa è mancato invece per i Tampa Bay Rays ci sono stati tanti episodi decisivi in tutta la serie insomma un video molto interessante prima di salutarci e celebrare ovviamente il campionato vinto dai Los Angeles Dodgers in attesa di rivederci con i video per il baseball nell'anno prossimo quando inizierà la stagione nuova ovviamente sempre covid permettendo una serie che veniva presentata quella delle World Series con tanti auspici e un pronostico comunque incerto perché si vedevano di fronte le due squadre migliori della Lega come vedete Tampa Bay nel tabellone era la numero uno dell'American League e dall'altra parte i Los Angeles Dodgers erano i migliori della National League è già capitato questa cosa negli ultimi 25 anni questa era la quinta volta e l'ultima volta come ho detto nel video precedente era successo nel 2013 quando si affrontarono Boston Red Sox e St. Louis Cardinals sulla carta i Dodgers erano comunque la squadra che aveva qualcosa da perdere in più rispetto ai Tampa Bay Rays per un semplice motivo i Los Angeles Dodgers sono la squadra che nella Lega attualmente spendono di più sono la squadra che è arrivata più volte in finale negli ultimi anni in quattro anni se prendiamo il 2017 questa era la quarta finale ne avevamo perse due e sono stati sempre una squadra in costante ricerca per il titolo e onestamente se i Dodgers avessero perso questo titolo del mondo se così possiamo chiamarlo 2020 della Major League Baseball evidentemente Dave Roberts avrebbe avuto qualcosa da dire alla stampa di Los Angeles che è molto molto pressante non dico ai livelli di New York ma poco ci manca diciamo che se i Dodgers avessero perso ancora sarebbe stata evidentemente una squadra fallimentare i Rays invece sono una squadra molto bella da vedere una squadra che è stata diciamo creata da Kevin Cash una squadra che per la seconda volta nella carriera diciamo di questa giovane franchigia perché i Tampa Bay Rays sono stati creati di fatto a fine anni 90 sono arrivati soltanto appunto due volte nelle World Series l'ultima era nel 2008 quando c'era Joe Maddon in panchina Kevin Cash appunto dicevo ha creato questa squadra gli ha fatto fare un percorso di crescita costante per arrivare fino a questo punto vincitori dell'American League East contro gli Yankees e altre squadre sulla carta più titolate sono arrivati fino in fondo con una squadra veramente molto profonda ma non con il nome esorbitante non con dei grandi campioni del presente Tampa sicuramente i campioni del futuro rende a Roserena in particolare ed era una squadra veramente costruita con pochissimi soldi basti pensare che di fatto tutti i Tampa Bay Rays valevano di fatto un decimo degli Los Angeles Dodgers perché gli Los Angeles Dodgers avevano molti stipendi appunto come dicevo il più alto della Lega i Rays invece come molti stipendi complessivi di tutti i giocatori avevano un monte stipendi di 28 milioni di dollari quindi veramente niente considerate le cifre che girano nella MLB rende a Roserena il giocatore più rappresentativo di questi Rays per darvi un'idea su una stagione normale guadagnerebbe 500 mila dollari che di fatto non penso guadagni nemmeno il catcher che gioca nelle minor dei Los Angeles Dodgers per darvi un'idea la cifra di paragone era molto interessante perché per esempio Mookie Betts e Clayton Kirsch guadagnavano in un anno quanti guadagnavano in un anno tutti i Tampa Bay Rays questo era per dare l'idea di queste squadre ma nonostante questo divario sulla carta incredibile dal punto di vista del monte stipendi effettivamente le due squadre erano molto vicine come prestazioni in entrambi i casi si possono parlare di squadre molto profonde i Dodgers sono una squadra veramente fatta di quasi tutti all star e quindi sulla carta erano i favoriti i Tampa Bay Rays però sono una squadra che con l'identità di squadra con il gruppo, con delle difese suntuose e soprattutto con dei fuoricampisti pazzeschi erano sempre in grado di arrivare a vincere le partite dunque c'erano tante attese e tante aspettative per una World Series che io avevo dato in 7 partite invece è finita in 6 io onestamente ti simpatizzavo per i Tampa Bay Rays in quanto tra virgolette squadra più debole e invece dobbiamo celebrare il settimo anello della storia dei Los Angeles Dodgers che 32 anni dopo ce la fanno ma come è arrivato questo titolo in queste World Series con delle partite abbastanza interessanti probabilmente fa eccezione gara 1 perché la prima competizione vedeva immediatamente i Dodgers sul pezzo e avanti e già favoriti probabilmente in questa partita perché ovviamente Dave Roberts per gara 1 schiera il suo lanciatore migliore ovvero Claydon Kershaw che ovviamente non poteva mancare l'appuntamento con i playoff e Kershaw fa una prestazione incredibile al contrario dell'altro grande lanciatore che è stato schierato dai Tampa Bay Rays ovvero Tyler Glesnow che purtroppo in gara 1 e soprattutto in gara 5 mancherà tantissimo come prestazioni per i Tampa Bay Rays in particolare vediamo il tabellino di Glesnow lo vedete qui che va a perdere la partita 4 inning a un terzo lanciati 3 vade concesse 6 punti addirittura sul tabellino di Tyler Glesnow di cui un fuoricampo media PGL o di media IRA punti per il lanciatore in sostanza di 12,46 di certo cifre che non vanno minimamente a riguardare un lanciatore giovane e talentuosissimo come è Tyler Glesnow dall'altra parte Claydon Kershaw lo vediamo qui 6 inning lanciati 2 vade concesse un solo punto 8 strikeout e un solo fuoricampo per una media complessiva di questa partita di 1,50 quindi una prestazione totalmente diversa il fuoricampo decisivo diciamo che va a montare la media di Tyler Glesnow è questo qui di Tyler Bellinger che viene fatto al quarto inning e poi si scrive anche al tabellino di questi fuoricampo Mookie Betts che di fatto aprirà e chiuderà la World Series con un fuoricampo in questo caso su Fleming arriva il fuoricampo al sesto inning una partita che in realtà non vede Tampa Bay di fatto in gioco se non probabilmente in parte nella parte alta del quinto inning dove arriva il fuoricampo di Kevin Kiermaier su Clayton Kershaw poi arrivano altri due punti nel settimo inning ma per il resto i Dodgers concretizzano la parte centrale della partita quindi dal quarto al sesto inning con gli otto punti decisivi dieci valide per una partita che onestamente non ha avuto storia e aveva già un po' indirizzato la serie verso i Dodgers ma che vi dicevo in sede di presentazione di questo video i Tampa Bay Rays non bisogna mai darli per morti in particolare hanno sempre dimostrato di sapersi rialzare e reagire alle situazioni di pericolo e di svantaggio cosa che infatti è capitata in gara 2 una gara 2 più equilibrata e dunque la risposta dei Tampa Bay Rays c'è stata una gara 2 abbastanza strana perché da una parte i Tampa Bay Rays hanno schierato il loro lanciatore migliore ovvero Blake Snell che è stato Cy Young Award nel 2018 per chi non conoscesse il gioco del baseball il Cy Young Award è il titolo che si riserva il miglior lanciatore della Lega in regular season e dall'altra parte Dave Robertson non opta per un partente fisso ma opta per il cosiddetto bullpen game perché appunto vanno ad alternarsi tanti lanciatori a disposizione erano ben 13 per entrambe le squadre e di fatto non avendo un vero e proprio quarto partente la gara 2 è stata battezzata così per i Los Angeles Dodgers e il bullpen game in questo caso proprio per i Dodgers viene pagato perché il lanciatore perdente è il lanciatore che di fatto è partito in questa competizione ovvero Tony Gonsolin The Catman perde la partita statisticamente con appunto i punti concessi di fatto al primo inning statisticamente poi va detto che in realtà Dustin May ne concederà molti di più però tecnicamente considerato che Gonsolin ha subito il primo svantaggio della partita è statisticamente lui non c'è dove perdete anche se Ginger Gard e Dustin May ha come vedete a parità di condizioni quindi un inning e un terzo lanciato ha subito tre punti tutti e tre guadagnati studi mentre Gonsolin soltanto uno ma cambia poco Blake Snelli invece dall'altra parte fa una prestazione molto interessante qui Kevin Cash usa il fast hook il gancio per richiamare subito il settore partente quando vede che c'è una situazione di difficoltà Snell ha lanciato quattro inning virgola due i Dodgers metteranno due punti sul tabellone per accorciare le distanze poi appunto da lì Snell viene tolto quando subisce il primo punto Nick Anderson che entra in corso subisce il secondo punto e poi da lì alla fine è una gestione per i Tampa Bay Rays che qui invece hanno fatto una prestazione molto interessante perché arrivano 10 valide complessive e 5 soltanto per i Los Angeles Dodgers azioni degne di nota sono il fuoricampo di Brandon Lau che è un grande battitore per i Tampa Bay Rays il migliore della regular season il seconda base di Kevin Cash però in queste World Series in realtà è mancato se non per alcuni spot ma in gara 2 risulta l'uomo decisivo perché con due fuoricampo addirittura uno su Gonsolin al primo inning e uno su Dustin May Ginger Gard nel quinto inning mette i punti di fatto decisivi per la vittoria dei Rays soltanto appunto la metà li porta Brandon Lau 6 a 4 il risultato finale il vincente Nick Anderson appunto il lanciatore che è entrato al posto di Blake Snell e la salvezza la porta a casa Diego Castiglio un altro dei lanciatori della scuderia di Kevin Cash dunque serie sull'1-1 day off per poi riprendere tre partite consecutive sempre al Globe Live Field di Arlington Texas vi ricordo che appunto queste World Series le hanno giocate tutti nella bolla di Arlington a questo spettacolare stadio del Texas per appunto la situazione del Covid e si va a gara 3 con questi partenti un grande duello Walker Bueller da una parte e Charlie Morton dall'altra Mr. Game 7 per Kevin Cash e un altro sontuoso lanciatore che non è stato schierato in gara 2 bensì in gara 3 e questo duello lo va a vincere Walker Bueller dunque i Dodgers vanno sul 2-1 nella serie con una prestazione incredibile ancora una volta si replica una partita molto chiusa nel senso in direzione per i Dodgers con altre 10 valide e 6 punti sul tabellone le prestazioni dei nostri settori sono i seguenti Walker Bueller è un settore vincente addirittura 10 strikeouts in 6 inning una prestazione sontuosa per Walker Bueller con soltanto un punto concesso ed è di fatto una delle migliori prestazioni al pari di Clayton Cash al contrario purtroppo Charlie Morton il grande veterano il venerabile maestro di Tampa Bay Rays purtroppo fa una prestazione in colore a dir poco 4 inning un terzo lanciati 5 punti subiti 7 valide 6 strikeout per quello che è indecutibilmente il lanciatore perdente ancora una volta arriva il fuoricampo di Justin Turner che sarà decisivo in queste World Series soprattutto perché Justin Turner al primo inning farà tanti fuoricampo questo appunto è il primo e in gara 4 si ripeterà gara 4 di cui parleremo tantissimo perché è effettivamente una gara la più spettacolare di queste World Series altri fuoricampo sono segnati da Austin Barnes catcher di riserva di Dave Roberts non basta appunto il punto segnato dai Tampa Bay Rays ovviamente al quinto inning non basta nemmeno il punto della bandiera se così si può chiamare di Randy Arosarena che comunque si sveglia e da lì di fatto non si fermerà più il punto del nonno inning in realtà è fondamentale per il malaga del cubano perché da lì in poi tornerà quel giocatore devastante questo rookie cubano pazzesco che appunto tutti noi abbiamo imparato ad apprezzare in queste World Series una partita che dunque ancora una volta sembra vedere i Dodgers avanti e nettamente favoriti quindi stesso copione di gara 1 e invece per gara 4 succede veramente il finimondo perché per i Dodgers c'è il di fatto quarto partente ovvero Julio Urias mentre Tampa Bay Rays si affida al bullpen game i Tampa Bay Rays hanno inventato questo tipo di gioco quindi hanno appunto messo tantissimi lanciatori alternandosi nel corso della partita e stessa cosa è stata fatta dai Los Angeles Dodgers e da tutte le altre squadre nel corso della stagione del corso della MLB ancora una volta la partita inizia con i Dodgers che sembrano subito carichi e subito avanti nel punteggio perché Justin Turner ancora una volta come dicevo in gara 3 fa fuori campo contro Ryan Rehambro in gara 4 al primo inning dunque subito i Dodgers sul tabellone dopodiché ci pensa anche Corey Seager a mettere il punto del 2 a 0 sempre per via aerea e dunque sembra di fatto una partita simile alle gara 1 e gara 3 e invece succede che dal quarto al settimo inning i Tampa Bay Rays mettono tantissimi punti sul tabellone e si riscattano in questa partita pazzesca la più spettacolare che vede tanti cambi di fronte tanti cambi di punteggio in particolare a Rosarena apre la rimonta con il secondo fuoricampo consecutivo e i Tampa Bay Rays faranno qualcosa di storico perché in tutti gli inning dove vediamo che hanno messo punti tranne il nono quindi in quattro inning consecutivi dal quarto al settimo i Rays hanno messo sempre almeno un fuoricampo a Rosarena al quarto Hunter Renfro al quinto inning Brandon Lau ancora lui al sesto inning terza valida delle World Series per lui e terzo fuoricampo per il seconda base e si iscrive alla festa anche Kevin Kiermaier al secondo fuoricampo in queste World Series per una partita che fino all'ottavo inning vedeva i Dodgers in vantaggio 7 a 6 di fatto tramite via aerea i Tampa Bay Rays hanno fatto i punti ed è di fatto la loro caratteristica principale il loro marchio di fabbrica basti pensare che l'ottanta per cento dei punti che hanno fatto in queste World Series di fatto è arrivato quasi con fuoricampo fino a questo momento ovviamente gara 4 una serie sontuosa arriviamo però al nono inning perché siamo 7 a 6 il vantaggio è per i Los Angeles Dodgers che non hanno messo punti sul tabellone vista anche una buona prestazione di Curtis che sarà il lanciatore vincente spoiler sul monte di lancio però sale l'olandese Kelly Jansen lanciatore in realtà di Curaçao ma che gioca ovviamente per la nazionale olandese essendo questo stato appartenente al regno dei Paesi Bassi ci sono due uomini in base per i Tampa Bay Rays e in battuta va un ragazzo che di fatto è appena arrivato un giocatore arrivato nelle ultime giornate di mercato per i Tampa Bay Rays e lo vediamo qui in quadrato qui ci vogliono le immagini perché quello che succede è qualcosa di allucinante e spettacolare questo ragazzo è Brad Phillips un giocatore arrivato dai Kansas City Royals che non aveva di fatto mai battuto in postseason o quantomeno aveva fatto scampoli di partita Kevin Cash lo utilizzava prevalentemente come cambio ma soltanto in difesa quindi era molto difficile vedere Brad Phillips battere che appunto in questa postseason aveva fatto soltanto due turni in battuta e nessuna valida non aveva mai fatto ovviamente un turno di battuta nelle World Series e questo ragazzo risulterà decisivo perché con un suo singolo di fatto i Tampa Bay Rays metteranno i punti sul tabellone ma è il come arrivano questi punti perché la scena è più o meno questa lancio di Jansen battuta valida di Brad Phillips la palla passa oltre agli interni arriva il primo punto segnato da Kevin Kiermaier per il pareggio siamo 7 a 7 nel frattempo la difesa dei Los Angeles Dodgers si incarta perché Chris Taylor sbaglia una presa all'esterno arriva il lancio in diamante verso il taglio nel frattempo a Rosarena che corre sulle basi per andare a segnare il punto della vittoria scivola nella corsa da casa base in terza e qui vediamo il frame della scivolata una cosa allucinante una cosa che potrei fare io che sono un amatore che gioco a slow pitch cosa che tra l'altro mi è anche capitata in un torneo a San Telpidio ma questa è un'altra storia a Rosarena un giocatore MLB prende troppo larga la curva dalla terza a casa base scivola e cade nel frattempo Taylor lancia a casa verso il catcher Will Smith che perde la palla in qualche maniera la palla va dietro a casa base succede il filimondo e a Rosarena può correre a casa segnare il punto dell'8 a 7 e i Tampa Bay Rays mettono la freccia e sorpassano i Los Angeles Dodgers al termine di una azione allucinante e confusa i teleconisti di Sky Pietro Nicolodi e Michele Gallerani in particolare sono totalmente impazziti e onestamente sono rimasto scioccato da ciò che ho appena visto e i Tampa Bay Rays vincono una gara allucinante al nonno inning con un walk-off del giocatore che non ti aspetti il giocatore messo lì soltanto per la difesa e ovviamente non c'era un'alternativa perché ovviamente Kevin Cash ha finito i cambi in questa partita Brett Phillips è l'eroe di questa partita lo rivediamo qui nella sua esultanza questo ragazzo è appunto l'eroe di gara 4 e dunque la serie è sul due pari Kelly Jansen è il lanciatore perdente perché appunto come vedete ha subito i due punti decisivi in due uomini affrontati tanto è vero che da qui in poi Dave Roberts non schiererà più il giocatore di Curaçao il vincente appunto è Curtis che è l'ultimo lanciatore che è salito sul monte un inning e un terzo lanciati due valide subite nessun punto per il numero 84 dunque vittoria per lui e Tampa Bay una gara 4 allucinante i Tampa Bay Rays potrevano essere diciamo come dire agevolati da una morale altissima da uno spirito pazzesco visto che vinceva una gara così ti gasa veramente fino all'inverosimile in gara 5 però succede veramente di ogni e anche qui si ripete il duello di gara 1 tra Clayton Kershaw e Tyler Glasno e come dicevo all'inizio in gara 1 Tyler Glasno purtroppo ciccherà anche gara 2 Clayton Kershaw invece fa la sua solita gara in ufficio e di fatto a parte due punti concessi nel terzo inning peraltro senza l'aiuto della via aerea dei Tampa Bay Rays fa una prestazione allucinante si porta a casa la vittoria di gara 5 e 3 a 2 nella serie per i Los Angeles Dodgers peraltro i Los Angeles Dodgers non potevano mancare nel fare fuoricampo su giro altri due Jock Peterson al secondo inning e Max Muncy al quinto per di fatto i punti decisivi una gara a stretto punteggio poi in realtà i Tampa Bay Rays si sono un po' sgonfiati rispetto alle prestazioni precedenti non metteranno più punti dal quarto inning in poi il vincente a Clayton Kershaw il perdente è ancora una volta Tyler Glasno la salvezza è di Blake Trinen che è il closer di riserva se così possiamo chiamarlo appunto come dicevo prima Dave Roberts non metterà più Kelly Jansen e si affederà prima al Trinen e poi a un altro lanciatore che vedremo dopo la prestazione di Kershaw l'abbiamo vista 5 inning 2 terzi 2 valide 2 punti concessi scusatemi 6 strikeout e 5 valide concesse peraltro di questi 6 strikeout sono tutti uno più importante dell'altro perché il numero 22 ha fatto un record della storia del gioco ovvero ha superato il numero di strikeout in postseason che apparteneva a Justin Verlander che quest'anno non ha potuto giocare per un infortunio e un'operazione chiamata Tommy John ma Kershaw a oggi è il lanciatore con il maggior numero di strikeout nella postseason se non sbaglio sono 207 Tyler Glasnow invece in 5 inning subisce altri 4 punti nonostante 7 strikeout di questi appunto 4 punti 2 però sono fuori campo per una prestazione ancora una volta deludente da parte del numero 20 a nulla bastano le prestazioni comunque dei rilievi che comunque silenzieranno anche loro di fatto l'attacco dei Los Angeles Dodgers 4 a 2 si va a gara 6 una gara 6 che decreta la fine dei giochi perché i Dodgers vincono 3 a 1 e vincono di fatto in rimonta qui la chiave è il sesto inning perché Kevin Cash toglie dal monte al sesto inning in corso quindi di fatto statisticamente a 5.2 in inglanciati il suo lanciatore migliore Blake Snell che da fino a quel momento aveva silenziato l'attacco dei Dodgers facendo 9k in tutti i battitori che ha affrontato Tampa Bay che nel frattempo era andata in vantaggio con il fuoricampo del solito rende a Rosarena al decimo fuoricampo in postseason una roba allucinante a Rosarena è il miglior rookie diciamo della storia ad aver fatto una persona del genere in postseason è già il fuoricampista per eccellenza della postseason dei Tampa Bay Rays ma i Tampa Bay Rays appunto come dicevo non hanno una storia così clamorosa della postseason delle World Series perché ci sono andati soltanto una volta sola nel 2008 perdendo tra l'altro 4-0 squippati malissimo in ogni caso qui a Rosarena mette il primo punto del vantaggio il sesto inning è fondamentale perché finisce il secondo giro dei Los Angeles Dodgers Blake Snell ha concesso una valida per il momento in questo inning Kevin Cash fa il gancio lo toglie e mette Nick Anderson da quando entra Nick Anderson in gioco i Los Angeles Dodgers siano i due punti decisivi che metteranno sul tabellone appunto in vantaggio i Los Angeles Dodgers Anderson peraltro dunque subisce i punti decisivi e sarà il natore perdente delle World Series di fatto dei Los Angeles Dodgers chiude in bellezza Mookie Betts perché appunto come dicevo nell'ottavo inning fa il fuoricampo il secondo in questa postseason per lui e come l'aveva aperta Mookie Betts la chiude il vincente di questa gara 6 che di fatto diventa il bullpen game perché come dicevo in gara 2 i Los Angeles Dodgers avevano battezzato il bullpen game così come i Tampa Bay Rays in gara 4 ha sto giro alla meglio perché il vincente è Victor Gonzalez giocatore messicano che ha giocato un inning a un terzo facendo 3 strikeouts e silenziando completamente l'attacco degli Houston scusatemi dei Tampa Bay Rays non degli Houston Astros Snell fa 5 inning e un terzo concede soltanto le valide un punto subito e 9 strikeouts una prestazione sontuosa dei Blake Snell qui Kevin Cash sbaglia evidentemente a posteriori a chiamare Nick Anderson perché il giocatore numero 70 subirà il punto decisivo dello svantaggio dei Rays che poi non saranno più in grado di rimediare il terzo punto lo subisce Pete Fairbanks altro lanciatore della scuderia che però non ha diciamo influenza sulla statistica del lanciatore perdente la salvezza la porta a casa Julio Urias giocatore messicano che è partito in gara 4 come dicevo dei Brovers non schiererà più Jansen e Urias lanciando due inning un terzo e non concedendo niente ai giocatori dei Tampa Bay Rays con 4 strikeouts chiude il discorso e i Los Angeles Dodgers dopo il 1988 per la settima volta nella storia della franchigia sono campioni MLB e finalmente si tolgono questa scimmia dalle spalle del titolo che mancava appunto da 32 anni è una doppietta storica in realtà per la città di Los Angeles perché appunto così come i Los Angeles Dakers hanno vinto nel basket i Los Angeles Dodgers vincono nel baseball e dunque c'è la doppietta per la città di Los Angeles poteva essere doppietta anche per i Tampa Bay Rays perché i Lightning hanno vinto la Stanley Cup di NHL e invece i Tampa Bay Rays probabilmente dovranno rimandare le speranze di titolo ai prossimi anni e già per l'anno prossimo attenzione i Tampa Bay Rays perché se sono arrivati con questa squadra in finale puntando sul gruppo e sulla difesa per il prossimo anno sono una squadra assolutamente temibile come minimo dal playoff e chissà se riusciranno ad arrivare fino in fondo è una serie pazzesca in ogni caso una serie che viene diciamo consacrata alla storia sia per i titoli di Dodgers sia per la pazzesca gara 4 sia per i grandi lanciatori che abbiamo visto purtroppo Tampa Bay deve recriminare su due cose Tyler Glassnow che è mancato in gara 1 e in gara 5 e sulla scelta azzardata secondo me di Kevin Cash di togliere Blake Snell alla seconda valida va detto che per spezzare una lancia a favore di Cash Blake Snell quando affrontava i battitori dal secondo giro in poi aveva una media di punti potenso a differenza del primo giro dove non concedeva di fatto più di mezzo punta partita qualcosa di allucinante in tutto questo chi è l'MVP delle World Series per il Los Angeles Dodgers non poteva che essere lui ovvero Corey Seager il giocatore che in questa possession è esploso aveva delle statistiche mostruose e anche in queste World Series ha fatto il bello e il cattivo tempo in particolare in attacco prima di gara 6 batteva praticamente 500 una volta su due per usare un termine un po' più semplice un qualcosa di inverosibile ma soprattutto con una qualità di battuta veramente fantascientifica Corey Seager in tutta la postseason chiude con queste statistiche 328 di media battuta 8 fuori campo 20 punti battuti a casa in tutta la postseason un qualcosa di allucinante per il giocatore classe 94 di Charlotte North Carolina 20 RBI è il secondo miglior record della storia per i Los Angeles Dodgers evidentemente in questa postseason Corey Seager merita assolutamente di vincere il titolo di MVP così come probabilmente ai punti per quello che si è visto in questa serie hanno meritato i Dodgers io dicevo speravo che finisse in 7 partite invece i Dodgers hanno avuto ragione in 6 partite i Los Angeles Dodgers dunque sono i campioni per questa stagione MLB una stagione un po' strana una stagione di 60 partite con playoff allargati potrebbe essere il titolo con l'asterisco secondo me è un titolo che conta comunque uguale perché appunto già è stato un miracolo creare una stagione di 60 partite è vero l'MLB giocano 162 partite non solo 60 quindi una regular season è abbastanza poco indicativa va detto che comunque i Dodgers avevano una percentuale mostruosa di vittorie e hanno dominato la loro divisione e in realtà tutti i playoff sarà interessante vedere se ci sarà una stagione completa l'anno prossimo se Los Angeles sarà in grado di difendere il titolo tanto inseguito e tanto ottenuto è un titolo meritato soprattutto per l'uomo che vedete di fronte qui al trofeo delle World Series ovvero Claydon Kershaw perché è uno dei più grandi lanciatori dell'era moderna della storia del gioco è un lanciatore veramente sontoso che a me piace veramente tanto Clay Shaw o il braccio sinistro di Dio come volete chiamarlo ha finalmente coronato il seno di una carriera ovvero di vincere questo titolo e se lo meritava soprattutto anche per le prestazioni dimostrate in gara 1 e in gara 5 veramente un grosso peccato per i Tampa Bay Rays erano la squadra del destino se così vogliamo chiamarlo in misura magari minore rispetto ai Washington Nationals dell'anno scorso che hanno sorpreso tutto e tutti sarebbe stato bellissimo vedere una franchigia così giovane arrivare al titolo al secondo tentativo di queste World Series invece purtroppo non è stato così e veramente solidarizzo tantissimo con i tifosi dei Tampa Bay Rays io da tifoso dei Mets me le sono godute comunque da esterno mi sono visto delle cose spettacolari ho visto un Kershaw suntuoso ho visto una Rosalena pazzesco ho visto una gara 4 ai limiti dell'inverosimile come bellezza probabilmente arriva a gara 7 delle World Series con Chicago Cubs e Cleveland Indians protagonisti insomma c'è tanta carne al fuoco probabilmente mi sono dimenticato tante altre cose ma questo è un video siamo appena finiti di vedere tutte le partite che mi sono recuperate effettivamente il giorno dopo ma non è un'analisi proprio oggettiva è un'analisi di un appassionato del gioco e spero che questa passione un po' di nicchia diciamo sia stata trasmessa a chiunque di voi guardi mai questo video con la stagione MLB abbiamo chiuso speriamo di ripartire nella primavera prossima con una stagione completa se così invece non dovesse essere speriamo che la MLB riesca a organizzare una stagione magari più lunga di 60 partite più playoff allargati che è un format che peraltro io terrei fatto così è un qualcosa di bellissimo perché si adegua alle altre leghe americane e diciamo può regalare tanti upset e tanto spettacolo sicuramente qualcosa di baseball uscirà nel corso dell'anno magari quando ci sarà la free agency quando ci saranno i colpi più importanti magari potremmo fare una classifica dei 10 colpi migliori della free agency quando sarà completa lo vedremo comunque nel corso del tempo intanto io spero che questo video vi sia piaciuto se siete passati di baseball iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e condividete questo video perché veramente il baseball è il mio sport preferito e anche se sono video di nicchia mi piace tantissimo farli e andrò avanti lo stesso anche nella prossima stagione per quanto riguarda invece la programmazione sportiva ci vediamo su questo canale domenica per il gran premio dell'Emilia Romagna di Formula 1 quindi torniamo a parlare di motori il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video domenica Grazie.